I momenti di un campionato non sono mai uguali, nel senso che ci sta che qualcuno che è lì davanti, che ha fatto tanti punti, che comunque è una buonissima squadra, magari è in difficoltà. È lo stesso discorso nostro, ti chiedono come ti spieghi che all'inizio e adesso i campionati sono lunghi, ci sono dei momenti buoni, altri meno buoni, bisogna saperli gestire entrambi, perché comunque anche i momenti buoni non sono semplici da gestire, proprio per questo discorso di euforia o di andare fuori binario anche come obiettivi, come cose, però rimane una squadra buona. Il cambio di allenatore visto dall'esterno può sembrare inspiegabile, però è anche vero che una squadra a gennaio ha preso Ferretti, che è un giocatore molto forte, ha preso Surraco, giocatori importanti per questa categoria qui, quindi evidentemente hanno ambizioni, hanno poi una società un po' più o meno come Surraco, che ormai ha esperienza di Lega Pro, di questo campionato. L'orale è buono, siamo allenati bene, abbiamo avuto qualche intoppino così di qualche giocatore, però in generale è andata bene. Credo che siano importanti i tre punti per la nostra classifica, provare almeno a conquistare i tre punti, comunque è un risultato positivo, c'entra la prestazione, ma non tanto perché abbiamo preso cinque gol all'andata, quello non credo che incida più di tanto.